Un cristiano che non cammina, che non fa strada, è un cristiano non cristiano, non si sa cos'è. È un cristiano un po' paganizzato, lì, sta fermo, va avanti nella vita cristiana, non fa fiorire le beatitudini nella sua vita, non fa le opere dei misericordi, è fermo. Ascusatemi la parola, è come una mommia, una mommia spirituale. E ci sono cristiani che sono momie spirituali, fermi, non fanno dal male, ma non fanno dal bene.